Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. L'anno scolastico è volto al termine, rimangono comunque insomma una serie di impegni da condurre in porto, però questo periodo un pochino di scarico può essere una buona occasione per ragionare su alcune attività digitali nuove, semplici ed utili, da proporre sia come compito tra virgolette digitale delle vacanze che in realtà come attività ordinaria da inserire e gestire da noi con la ripartenza in settembre, che sia in un contesto di didattica a distanza o in presenza potremo sempre avere spendita della didattica digitale. La piattaforma che ho scelto quest'oggi e che vi racconto è Quizzizz, doppia z finale, quindi sito di riferimento Quizzizz.com e la possiamo aprire da un qualsiasi programma di navigazione, quindi browser. Bando alle ciance, la prima volta io clicco in alto a destra sul pulsante verde sign up, che è il pulsante di registrazione. Sarà possibile utilizzare, cliccando su sign up with google, o un indirizzo di posta elettronica google suite scolastico, un qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica, personale, gmail o altro. Se già esisto e mi sono registrato, dal secondo accesso in avanti cliccherò in alto a destra su log in, cosa che faccio io ora, così come vado a cliccare su log in with gmail ed è il sistema stesso che mi chiede con quale account io voglio entrare e vado a scegliere uno dei miei account scolastici. Sono dunque riconosciuto come teacher, ve lo chiede in prima registrazione, siamo teacher o student e avrete un piccolissimo sondaggio statistico con una notevole influenza americana per cui se vi chiede l'ordine di istruzione, non c'è scuola primaria o secondaria di primo grado, prendiamone uno più o meno coerente da quelli offerti nelle tendine. Partiamo con il nostro primo quiz, io clicco su create a new quiz, vado a dare il nome alla mia attività, nel mio caso io immagino un semplice quiz legato alla storia di internet, quindi per tecnologia, secondaria di primo grado ma anche primaria, per lasciare nei ragazzi qualche seme sano di cultura digitale e di informatica base. Dunque titolo, conosci la storia di internet e poi vado a cliccare su queste categorie in lingua inglese perché quiziz naturalmente nasce all'estero, che meglio interpretino la disciplina oggetto del quiz. Clicco sul pulsante verde next. A questo punto prepariamo la copertina del quiz e in realtà vado a cliccare sulla matita che vedo a destra. Allora intanto qua sono voluto un secondo tornare per mostrarvi che prima ancora della copertina, se ricordate il titolo, il bollino della disciplina, ma se non trovo una disciplina coerente qui, io posso cliccare sul more, che è più, e scegliere ad esempio genericamente education, se non addirittura other, quindi altro. Confermo con un tasto verde su save. Controllo questi pulsanti che poi in realtà sono link scritte in viola. Public va bene perché sono pronto per avviare l'attività. L'english che vedo qui e ho cliccato e che vado a variare dall'apposita tendina è da intendersi come lingua del quiz, non lingua di quiziz, che resta invece regolarmente in inglese, ok? Vedete quanto ho accennato prima? Quando mi parla dei grades, dei gradi di istruzione, non troverò i gradi del sistema scolastico italiano, ma io clicco e do, e non abbiamo il tempo insomma di immaginare il parallelismo. Vado a prendere in questo caso, per mostrarvelo, un grado della scala di istruzione, in questo caso estera, quindi di impianto anglosassone americano, e poi in alto vado a cliccare per fare che cosa? Vado nei miei download ed ecco che ho la possibilità di andare a cliccare su una immagine a mio piacere, già precedentemente scaricata sul computer, e poi confermo con un clic su apri, e vado dunque a specificare l'immagine di copertina. Dopodiché il public che ci siamo detti va bene, quindi lo lascio visibile, faccio un clic su save. Copertina pronta, con questa breve modifica, quiziz mi dice che sono stato bravo e mi assegna uno score, cioè un punteggio di qualità, di sette e mezzo su dieci. In sintesi, più lo perfeziono, più arrivo a dieci. No? Questo è un invito a procedere. Tipologie, ed è questo il punto interessante, di domande e risposte. Risposta multipla, il check box, cioè il contrassegno da parte dell'alunno, il fill in the blank, completa la frase, il sondaggio, la risposta aperta, open-ended. Allora, io vado su new question, clic, in realtà non c'era nessuna domanda e siamo tornati al punto di partenza. Voglio una risposta multipla, clic, ed eccoci qua. A destra anteprima di come sarà poi per gli alunni, a sinistra il nostro lavoro. Allora, write your question, la mia domanda, e io vado a porre una domanda reale. Ad esempio, quando è nata, scriviamo in maniera corretta, quando è nata la rete internet. Vado a dettagliare le risposte. Allora, 1991, 1969, 1980, sto solo cliccando riga dopo riga, e poi 1995. Qui vi aiuto io. La risposta corretta è 1969 perché internet agli albori si chiamava ARPANET ed era una rete nata per uso militare, infatti ARPA è il nome di un dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Quindi abbiamo già visto come contrassegnare la risposta corretta. Interessante notare che a destra, sia nella domanda che nelle risposte, c'è il tasto F di X MET che apre proprio un apposito editor, cioè un apposito riquadro per la scrittura matematica. Molto interessante. Chiudo con X. Così come interessante è il bollino media che abbiamo qui nella domanda? Perché il bollino media mi permette di aggiungersi una immagine alla domanda, ma vi mostro con audio che se io clicco sul pulsante rotondo viola e sto nei 10 secondi di limite, posso, funzione utilissima per i DSA, leggere la domanda con la mia voce, la tecnica del voice over. Esempio. Clicca. Due. Consenti, guardate. Quando è nata la rete internet? Ho stoppato. Clicco su save e c'è la domanda con la mia lettura vocale. Dopodiché i secondi, questa funzione per analogia, chi tra voi utilizza una risorsa come Kahoot la conoscerà, sono i secondi a ritroso che hanno a disposizione gli alunni per rispondere. Io adesso lascio 30 secondi e clicco su save perché desidero mostrarvi che in realtà qui a destra dove state osservando il mio puntatore, io posso andare ad impostare un tempo di default per ogni domanda. Giusto ieri ne parlavo ad un mio corso di formazione docente in presenza e per i DSA, oltre alla lettura con la mia voce della domanda, posso calibrare un lasso di tempo decisamente ampio. Impostiamo una seconda domanda, dai, con scelta. New question, ancora. Click. Anche qua, similitudine con i moduli di Google, di cui parlo sempre qui nel mio canale YouTube Trainer Andrea. Allora, questa volta scelgo il fill in the blank, quindi il completamento della frase, e allora vado a specificare. la sigla www sta per risposte possibili. Risposta answer, alternative, le risposte che vanno ugualmente bene. Allora, world wide web, come alternativa eventualmente vado a mettere internet, che non è proprio corretto in realtà, ma è per mostrarvi questo campo. Piccoli pulsanti di formattazione, cioè di abbellimento, e li trovo sia nella domanda che nelle risposte, un clic su save. Quindi, qualsiasi risposta digitata non coerente con quei valori verrà ritenuta errata. Ho completato il mio quiz, e a questo punto vado a cliccare su done, fatto, in alto a destra, pulsante bianco, clic, riepilogo delle mie domande, e poi possibilità di riproduzione. Come? Allora, pulsante verde, practice. Questo pulsante verde serve per testare da parte nostra il quiz, e quindi non sporchiamo i report, cioè non influenziamo poi la statistica del lavoro che a noi serve, d'accordo? Mentre nel momento in cui intendiamo procedere con gli alunni, ecco che abbiamo il tasto, pronuncio letteralmente, assign, e da quel punto lo lancio per la didattica asincrona. Cioè, se io clicco sul tasto assign, tanto per intenderci, io ho la scadenza da assegnare, anche qua, similitudine con il compito con quiz dei moduli di Google, quindi in classroom, l'ambiente di apprendimento di Google. Vedete che io posso impostare la scadenza, io la lascio così. Vi mostro che ci sono delle opzioni interessantissime qui da gestire. Ad esempio, quanti tentativi può fare un alunno. Se do un abito più serioso alla mia attività, uno, ma gli alunni dovranno effettuare un login. Quindi va bene se a quel punto hanno un indirizzo di posta elettronica validamente gestibile. Mi viene in mente l'indirizzo Google Suite. Se io metto unlimited e quindi diventa un'attività che in realtà fanno magari in modalità sincrona con noi in condivisione schermo, unlimited va bene, si fa da ospiti. Do solo il nome con cui sto partecipando. Poi, vuoi mostrare nel gioco direttamente le domande. Vedete un pochettino. Allora, cosa vado a fare qui? Domande e risposte. Mostra agli studenti le risposte corrette dopo ogni domanda. Off, così rimane loro la curiosità e arrivano poi al termine ad avere il report delle risposte corrette e sbagliate. Poi mostra le risposte alla fine del gioco on. Dopodiché, per un discorso di, io la chiamo seriosità, vi consiglio di lasciare grigi eventualmente o, per limitare la confusione, magari se lo si fa in classe in presenza in uno scenario di classe 2 o 3.0, dunque con i tablet, vado a disabilitare la musica sul dispositivo degli studenti. I memes che sono in realtà delle animazioni curiose stile cartoon che appaiono dopo ogni risposta per motivare e gratificare l'alunno risponditore, ok? Mentre le domande a caso, shuffle questions, le risposte in ordine casuale, tutto sommato questi interruttori possono rimanere verdi, idem il timer. Diciamo che le opzioni su cui volevo focalizzare la vostra attenzione sono proprio quelle che abbiamo visto. Questa funzione, di cui magari parleremo in altro videocorso, è perché Quizizz diventa anche ambiente di apprendimento. Cioè io posso avere qui una mia classe, un po' come in Classroom, e quindi il mio quiz lo rivolgo a chi? Ai miei destinatari, solo alla mia classe. Ora in questo caso invece lo sto aprendo, diciamo, ad una partecipazione ai miei alunni che sono sì la mia classe, ma non per Quizizz. Quindi io sono pronto per procedere, clicco sul bottone verde continue, il continue, e ora guardate un pochettino cosa scopriamo. Scopriamo che c'è a disposizione o direttamente un pulsante viola per pubblicare direttamente in forma di link questa attività su Google Classroom, e lo riconoscete dal famoso pulsante verde bordato di giallo, oppure ancora un pulsante catena da cliccare e ho copiato un link diretto che poi devo incollare sulla bacheca del registro elettronico, sullo stream di Classroom, di WeSchool, dove voglio, oppure ancora debbo dire ai miei alunni, bene ragazzi, allora, e glielo scrivo e do la consegna da un qualunque dispositivo collegato ad internet, con un qualunque browser, ma io consiglio sempre Google Chrome e Mozilla Firefox, andate su joinmyquiz.com e inserite il numero 4355485. A quel punto avviate il gioco e realizzatelo, avete un tot di tempo per svolgerlo? Questa è la modalità assign, sto assegnando con scadenza. Quando sono pronto clicco su hand game, yes. In realtà questa attività è assegnata, cioè in realtà stiamo per, come dire, stiamo attendendo, perdonatemi, che entro la scadenza gli alunni vadano a svolgere il loro lavoro. Se io vado in My Quizzes, i miei quiz in Quizzes, ecco che trovo, conosci la storia di internet, creato 12 minuti fa, 12 minutes ago, giocata a zero perché non ho ancora alunni che abbiano partecipato. Interessante sarà poi, cliccando su reports, vedere cosa accade e abbiamo il monitoraggio esatto dell'attività dei nostri alunni, ok? Se io clicco sul mio conosci la storia di internet e clicco su play live, non più il tasto assign, assign. Questo è ora e subito, ve lo mostro, didattica sincrona, in presenza o a distanza. Rivediamo il setting della lezione frontale, in questo caso coinvolgo gli alunni e li faccio partecipare. Modalità classic, è una modalità classica con cui appunto i miei alunni ora parteciperanno. Queste sono le opzioni che in realtà ho spiegato anche prima, per cui se non devono registrarsi e voglio che partecipino con facilità, i tentativi students' attempts li metto su unlimited, ok? Gli interruttori verdi e grigi di cui ho parlato prima servono per deselezionare o rendere attive quelle funzioni che lo rendono più giocoso, più gradevole, ad esempio per la scuola primaria, ok? Quindi siamo pronti per riprodurre questa attività didattica perché si impara divertendosi e non è necessariamente un gioco. Questa è la chiave di lettura. Vado a cliccare sul pulsante viola continue, clic, ed ora il docente, esattamente come in CAUT che ho nominato prima, ha questo riquadro scuro in finestra. Sto aspettando, come vedete, il numero delle testoline è zero, di vedere il numero degli alunni ed i nomi degli alunni ben disposti in questo secondo rettangolo qui in basso, per poi cliccare start. Gli alunni che cosa devono fare? Gli alunni in realtà, come ho già spiegato proprio, come dire, un minuto fa, apriranno da un qualsiasi dispositivo e browser il programma di navigazione appunto necessario, quindi in alto digiteranno joinmyquids.com ed inseriranno il game code 471724. Potranno quindi avviare la loro partecipazione, ma solo dopo che io, docente, avrò cliccato lo start in viola. Questa è la preparazione dell'attività da parte del docente, mentre nel secondo videocorso che trovate sempre qui sul mio canale Trainer Andrea, avete modo di vedere direttamente la partecipazione dell'alunno, cioè quale finestra l'alunno vedrà. Quindi appuntamento alla prosecuzione di questo videocorso e un caro saluto sempre dal vostro Andrea Cartotto.